Define Banking, podcast ufficiale di Azienda Banca, a cura di Alberto Grisoni. In questo episodio di Define Banking vi raccontiamo un progetto importante che ha riguardato il microcredito e il rilancio dell'imprenditorialità presso giovani e disoccupati, ma non solo. Ce lo racconta meglio Nicola Patrizzi, capo progetto per l'ente nazionale per il microcredito. Nicola, benvenuto a Define Banking. Grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo del progetto Yes i Startup, che è stato definito il New Deal delle PMI. Raccontaci qualcosa di più, che cosa è e a chi si è rivolto, a chi si rivolge ancora oggi. Il progetto Yes i Startup è nato nel 2018 attraverso un accordo di collaborazione istituzionale tra l'agenzia Ampal del Ministero del Lavoro e l'ente nazionale microcredito. È un progetto pubblico nato per aiutare inizialmente i NIT, quindi i ragazzi che non studiano, non lavorano, né si formano nella fascia di età 18-29 anni, per accedere alle principali misure di finanziamento disponibili, soprattutto il fondo Self Employment, che è una misura di microcredito che finanzia le nuove attività con prestiti a tasso zero e senza garanzie fino a 50.000 euro. La peculiarità del progetto è quella di garantire un'azione di accompagnamento e formazione della durata di otto ore, che viene erogata in tutta Italia grazie ad una rete partenariale, che è la vera prerogativa del nostro progetto. Quindi abbiamo creato una rete pubblico-privato in tutta Italia, con soggetti specializzati, che grazie agli strumenti forniti dal progetto garantiscono su tutto il territorio italiano l'accesso all'azione formativa di accompagnamento, fino alla presentazione della domanda di finanziamento da parte dei ragazzi. Quindi un'assistenza totalmente gratuita per i ragazzi. Il progetto è nato per i NIT nel 2018, nel 2021 è stato esteso anche alle donne inattive e ai disoccupati di lunga durata. Ecco, diamo un'informazione importante soprattutto per i giovani e i disoccupati che magari vivono, non so, in piccoli centri o in determinate aree del paese. Questo programma si svolge dal vivo, chiaramente in presenza, se ho capito bene, ma si svolge in tutte le regioni italiane. Non ci si deve per forza spostare, insomma, per capirci, in una grande città oppure al nord? No, il progetto è attivo in tutte le regioni e grazie alla rete partenariale, che nella prima edizione ha visto circa 500 cosiddetti soggetti attuatori e nell'attuale edizione ne ha quasi 400, sono presenti pressoché in tutto il territorio. Molto più presenti al sud, un po' meno al nord, però sostanzialmente in tutte le regioni ci sono partner della rete che garantiscono l'azione. L'azione formativa è prevista in presenza, ma nel periodo Covid abbiamo ingegnerizzato una piattaforma di formazione a distanza che ha dato grossi risultati e stiamo continuando ad utilizzarla. Quindi l'accessibilità è veramente garantita a tutti su tutto il territorio perché i corsi vengono svolti in FAD, una FAD sincrona e assistita e quindi c'è la possibilità veramente di raggiungere tutto il territorio italiano. Restiamo sempre nei panni dei potenziali partecipanti, insomma di chi vorrebbe magari tentare di fare qualcosa di suo e qualcosa di nuovo. Che cosa succede dopo questo programma? È possibile avere una mano, dicevi prima, anche per sviluppare la propria idea nel concreto? Sì, allora si tratta, come vi dicevo prima, di un percorso di formazione e accompagnamento. Il ragazzo viene guidato a sviluppare l'idea di impresa personalizzata perché l'azione è svolta per piccole aule, mediamente quattro allievi sostanzialmente, che alla fine del percorso sono in grado di definire il business plan completo, quindi pronto per essere poi utilizzato per la presentazione su un bando, una domanda di finanziamento, self-employment, al sud anche gli altri programmi di Invitalia come il resto al sud, oppure programmi regionali che finanziano lo startup di impresa. Quindi è un'assistenza mirata e molto operativa, quindi non si parla di autoimprenditorialità in senso lato, ma il percorso è tarato proprio per finalizzare l'azione nella scrittura dell'idea di impresa personalizzata. Il progetto nella prima edizione 2018-2020, quindi i primi due anni e mezzo di attività, è partito a maggio 2018, ha coinvolto a livello nazionale 1800 ragazzi. Di questi oltre la metà al termine del percorso hanno presentato la propria idea di impresa e oltre il 60% di queste idee di impresa sono state finanziate. Il progetto è stato replicato poi dalla Regione Calabria, che con i propri soldi, i fondi regionali, ha mutuato il modello con gli asset startup Regione Calabria e nella sola Regione Calabria, nello stesso periodo, sono state coinvolte mille persone e sono nate nella sola Regione Calabria 400 imprese. Nel complesso sono state, nella prima fase, 750 le imprese create con investimento di 31 milioni di euro. Molti sognano di diventare imprenditori, ma come fanno a sapere, a comprendere che la loro idea ha effettivamente del potenziale? Quali consigli possiamo dare insomma ai potenziali partecipanti al vostro programma? Allora, oggi ci sono moltissime misure di finanziamento e i soldi che a livello nazionale o a livello regionale sono stanziati per creare un'impresa sono moltissimi. In ultimo, un programma che è stato appena lanciato dal ministro Giorgetti che si chiama Impresa Donne e finanzia le nuove startup femminili. Il nostro progetto consente sostanzialmente, in maniera molto semplice e gratuita, di partecipare ad un percorso di accompagnamento che fa capire al ragazzo se effettivamente l'idea di impresa è solida, se soprattutto c'è la giusta motivazione e quindi ci sono le basi per poter poi scegliere questa attività che è un'attività di nicchia, quindi fare l'imprenditore non è per tutti e quindi nel nostro corso noi scoraggiamo anche chi non ha le caratteristiche perché non aiutiamo nessuno se facciamo nascere un'impresa che poi non ha le basi. Quindi il percorso è finalizzato proprio a capire se c'è la possibilità e l'imprenditorialità necessaria per mettere in piedi un'impresa che poi può permanere sul mercato. Sempre parlando a chi ci sta ascoltando ed è interessato, come ci si candida a Yes i Startup e quando si apre il prossimo programma? Oggi Yes i Startup è aperto per i NIT, fino al mese di marzo abbiamo lavorato anche con le donne inattive e disoccupate ma abbiamo saturato il budget messo a disposizione per il Ministero del Lavoro e siamo in attesa del rifinanziamento. Per i NIT quindi che vogliono fare impresa, quindi ricordo i giovani che non studiano, non lavorano, ne fanno percorsi formativi con un'età fino a 29 anni, possono accedere al progetto attraverso il sito www.diventaimprenditore.eu Nel sito sono elencati tutti i partner della rete o possono contattare lo staff centrale che li metterà in contatto con il partner più vicino per accedere ai percorsi formativi. Nicola, grazie mille per essere stato con noi oggi nel nostro podcast. Grazie per l'invito e per l'opportunità e spero che questa breve presentazione possa essere d'aiuto per i ragazzi che vogliono e sperano di diventare imprenditori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.